Monia Zanon, permettimi di parlare di te, in quanto nella prima presentazione di quello che è il retro del libro, prende riferimento due donne. Il libro è stato scritto da Monia Zanon, però poi possiamo dire con l'aiuto, con il benestare anche di Luigina Bernardi. Che salutiamo, mi metto in mezzo anch'io anche se non conosco, ma la conosco dal libro e conosco quello che lei sta facendo, cosa state portando avanti e adesso fra pochissimo lo sentiranno anche i nostri radioascoltatori, ormai da un bel po' di anni perché parliamo di vent'anni. Vent'anni che state collaborando assieme e che probabilmente avremo anche, ecco diamo già questo annuncio, questa serata non è unica, è come un film a due tempi e abbiamo fatto un appuntamento radio a due tempi. Mi ha proposto questa cosa a Monia e ho detto vabbè perché no, il libro è interessante, credo che valga anche la pena spiegarlo molto bene e come dire, parlarne con due possibilità di puntate. Tra l'altro Monia ci darà anche, oltre a quello che noi ascolteremo appunto dal libro, che è veramente di grande apertura, di grande conoscenza e credo che poi ci darà anche un esercizio, ci spiegherà anche qualcosa che c'è nel libro. Vediamo, vediamo se stavolta o la prossima volta, lasciamo anche un po' di rosolamento. Rosolamento, certo, va bene, va bene, va bene. Sei tu la scrittice, sei tu quella che li puoi rosolare, ecco. Ma sempre con amore. Ma sempre con amore, cara. Bene, ma allora che cosa fa Monia Zanon con amore perché insomma è una tua passione di vita? Beh, sicuramente con amore scrivi libri perché hai una capacità di quello che ho trovato ormai in più libri, ma in questo libro appunto dal titolo Coscienza Quantica e Punto Zero, sottotitolo Guarire con le frequenze e lo sviluppiamento del tempo, io già pensavo, ho detto, oh mamma mia, questo è un mattone di quelli che non so neanche se riuscirò a capire qualcosa. Speriamo che anche tutti gli altri lettori non pensino alla stessa cosa, sennò siamo fritti. Allora, il libro, il titolo è un titolo che può spaventare, ma in realtà solo perché l'argomento è veramente di quelli tosti, fisica quantistica, coscienza quantica, quindi da un… Poi quando cominci a leggerlo tu hai avuto la capacità proprio perché si sente che hai questa proprietà dell'argomento e insomma è anche quello che fai attraverso il counselor e quindi l'hai veramente messo nel modo semplice e tale per cui io sono riuscita a capirlo. Se lo capisco io, credo che non c'è nessunissimo problema per nessuno. Tra l'altro, quindi, torno a dire appunto Monia Zanon, è laureata in scienze del counseling con l'Ode, Mastering Counseling, corporeo e relazionale, naturopata, direttrice didattica e autrice di una decina di saggi nel settore. Collabora con diverse riviste ed è spesso ospite in salotti radiofonici e televisivi. Ecco, è anche qui nel nostro salotto di Radio Gamma 5. Il libro appunto di cui stiamo parlando è Coscienza Quantica e Punto Zero e sarà questo libro che ci accompagnerà proprio questa sera e anche fra il 2 lunedì. Iniziamo subito dal, diciamo, da quello che è l'esperienza tua personale perché credo che sia importante, è molto di, diciamo, di buon augurio, un buon augurio anche per iniziare quest'anno. Di buon augurio che parte, infatti, partiamo dalla tua storia e facciamo quindi nella linea del tempo un salto di, penso, ormai 20 anni fa. Sì, diciamo, dipende dalla domanda, dipende dalla domanda, attendo la domanda. Ok, attendi la domanda. Allora, facciamo il salto di 20 anni fa quando in questa linea del tempo Monia aveva appena da pochissimi mesi partorito una meravigliosa bimba. Allora, 18 anni fa. Ecco, 18 anni fa. Avevi partorito la tua bimba, Maya. E inizia lo svezzamento e succede, cosa succede? Allora, intanto devo dire che io già ero in un certo ambiente olistico, quindi non è che era come accade magari a moltissime persone che si mettono in una condizione di cercare perché avevano bisogno. Quindi ti succede una cosa tra capo e collo, come si suol dire, e ti metti a cercare tutto quanto quello che c'è in giro per aiutarti, come succede a tanti. Per me la situazione è stata un po' diversa perché ero già nell'ambiente olistico e quindi, diciamo, è stato un po' più facile perché già mangiavo quel tipo di energia lì. Vuoi fare un saluto anche a chi ci segue dai social? Sennò vedono solo me. Vieni che c'è il microfono. Eccola, eccola. Eccoci qua. Così, è perché siamo contemporaneamente in diretta sia sui social che in radio e altrimenti, sennò diamo la preferenza, no? Certo, certo. Hai fatto bene a dirlo che poi lo dirò anche io direttamente dal mio microfono. E quindi cosa succede? Succede che nasce la mia prima figlia, appunto Andrea Maia, e tutto va bene fino a un certo punto. Nel senso che io allattavo e dopo, quando ho cominciato lo svezzamento, quindi in quelli che erano i primi 3-4 mesi di vita, inizio lo svezzamento e con le prime zucchine lesse, carotine lesse, insomma quelle cose che metti per fare le pappine all'inizio, Maia comincia ad avere delle manifestazioni di shock anafilatico inspiegabili. Cioè quello che oggi dava allergia, il giorno dopo non mi faceva niente. Quello che andava bene oggi non andava bene domani. Quindi ero, soprattutto per una ragazza giovane, alla prima esperienza, ero veramente allarmata. Non sapevo che cosa fare. Sì, immagino anche spaventata da questa situazione, perché comunque è una bambina che non riesce a mangiare, che aveva continui intolleranze. E quindi cosa succede? Sì, lei accettando solo il mio latte, l'unico alimento, io comincio ad interessarmi ancora di più a quello che già prima mi piaceva tanto ed era la mia grande passione. Perché? Perché a quei tempi con altri coraggiosi personaggi avevo fondato il Circo Leghina e quindi succede che noi invitavamo tantissimi scienziati di frontiera a Montegrotto a venire a raccontarsi, a raccontare delle loro ricerche. E in uno di questi casi arriva un personaggio veramente pazzesco, un ingegnere che ha lavorato anche per la NASA e che era all'interno dell'equip che ha riportato sulla Terra Apollo 13 quando si è disperso. Quindi parliamo di un personaggio non proprio... Un personaggio pazzesco. Infatti. E quindi cosa succede? Succede che lui crea una strumentazione quantistica magica, possiamo dire, veramente pazzesca. Per quell'epoca, adesso poi andremo a vedere come funziona per cui però effettivamente è magica nella sua visione. E quindi niente, io comincio a dire ok, le approvate tutte, proviamo. Affido anche questo alla mia bambina. E a quei tempi c'era la segretaria del circolo che era una delle varie mani che venivano date per questo progetto comune, che era particolarmente innamorata del progetto e che desiderava acquistare la strumentazione e investire tutti i suoi fondi per comprarla, perché stiamo parlando di qualcosa che non costa due bagiggi. E quindi succede che per farlo avevamo bisogno di un medico, avevamo bisogno di un luogo fisico per poter fare tutto ciò, per cui mettiamo insieme questa avventura di tre anime per motivi differenti. Una persona che appunto era Luigina, che lei voleva fare questo lavoro da grande, che partiva già con una certa età, e questo medico, e questo avventuroso medico, e io che mamma disperata, che in qualche modo... Cercavi una soluzione per la tua bambina. Cercavi una soluzione per la mia bambina, esatto. Certo. E quindi parte così la mia avventura con la strumentazione quantistica. Caspita. Bene. E a questo punto, allora, ci addentriamo nel tema di quella che è questa medicina quantistica. Niente di così complicato, come dicevo appunto, perché nel libro è veramente spiegato in parole molto semplici. Iniziamo subito con quello che nel libro vengono chiamati i biofeedback di riequilibrio. E quindi appunto abbiamo visto che chi sono i protagonisti che si succedono nella storia, e dai quali possiamo anche partire per definire in modo chiaro, e non così appunto campato in aria, che quello che succede, quello che è la macchina, è frutto di importanti scoperte di scienziati e di medici. Che a sua volta è interessante sapere che questo ingegnere della NASA, Bill Nelson, anche lui era arrivato attraverso problemi dovuti al figlio, che era nato utistico. Ah, ecco. E per cui che lui voleva aiutare. Quindi nasce veramente da qualcosa che sembrava un film rouge che ci accomunava. Sì, bisogno di cercare soluzioni per i propri bimbi, certo. Comincia così la sua ricerca, con già comunque delle conoscenze pazzesche, comincia così la sua ricerca allora. Quindi è anche particolare questa... è lì che mi è venuta l'idea, perché se lui l'ha fatto per suo figlio, forse anch'io potevo fare qualcosa per la mia. E devo dire che così è stato, perché Maya, io non posso dire che è guarita, perché veniva considerata una malattia autoimmune, e si sa che di malattie autoimmuni scientificamente non è che si guarisce. Però io posso dire che mia figlia ha 18 anni e non ha più avuto problemi di sciocana filatici da alimenti. E quindi a me non mi interessa sapere se lei è guarita. A me interessa che lei non è più in rischio di vita. Chiaro, non ha più i sintomi che poi la porterebbero comunque ad avere degli shock incredibili. Perché abbiamo scoperto una cosa interessante. E cosa abbiamo scoperto? Quanto è sicuramente parlando. Abbiamo scoperto che tutto ciò era dovuto a una sindrome abbastanza conosciuta adesso, che si chiama sindrome del gemello scomparso. Quindi lei ha perso in grembo il suo gemello, lei è sopravvissuta e il gemello no, perché ha avuto una minaccia d'aborto nel terzo mese, e quindi la camera ovulare non si chiudeva, per cui a un certo punto chiaramente si è chiusa. E potrebbe essere che lei abbia anche assorbito il suo gemello, non si capisce bene, è tutto un mistero. Però insomma io vengo ricoverata per minaccia d'aborto e lei riesce a farci. Quindi c'è stata in effetti questa, diciamo, però tu non avevi percepito di aver perso un... Sì, sì, io ho avuto un'emorragia, sono stata ricoverata e avevano detto che non sapevano se avrei salvato... Insomma, ero allettata, ecco. Cominciano con il protocollo per chi ha minaccia d'aborto e insomma ce l'abbiamo fatta. Però lei ha subito questo abbandono nel grembo e quindi nel momento stesso in cui comincia a esserci questo cibo alieno, che non è più il latte della mamma, ha cominciato a instaurarsi tutto un sistema particolare e lei è andata in sindrome di abbandono. La paura recondita che aveva vissuto prima di morire. Quindi in pratica attraverso lo scoprire si cambia il messaggio? Sì, è un po' come dare un suono alle tue cellule che si sono momentaneamente scioccate perché stanno rivivendo un ricordo, perché il corpo ha memoria, si sta rivivendo un ricordo e in qualche modo convincere le cellule a tornare ad un suono sano che avevano in partenza. Perché se in partenza era sano è possibile fare qualcosa. Se in partenza non è sano è più complicato. Ma se in partenza il suono è sano è possibile tornare a quella musica, basta ricordargliela alle cellule. Ed è attraverso questo sistema, adesso ho detto in maniera molto, 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 molto semplice, mi scuserà Bill Nelson. Ecco, quindi è come un accordare, come fosse uno strumento musicale, il linguaggio, il suono, la memoria delle nostre cellule. Potente. Strumenti diagnostici comunque sono utilizzati anche in ospedale, non è che proprio sia scoperta l'acqua calda. Adesso sta cominciando via via a inserirsi. Sì, però teniamo a presente che voi vi siete inseriti in questo contesto vent'anni fa, quindi è qualcosa di veramente unico a vent'anni fa. Adesso appunto c'è il discorso del bombardamento, per esempio, dei calcoli biliari, con queste onde di frequenza. Bravissima, bravissima. Ho letto il libro, quindi lo sapevo. Ho fatto preparato per questo appunto, però queste sono cose che sono incredibili attraverso queste onde e si riesce appunto a frantumare. Però sono, come dire, siamo un po' ancora lontani dal pensare di cambiare i messaggi, cioè nella medicina diciamo quella che il messaggio delle nostre cellule. Siamo un po' lontani. Tieni conto che perché una cosa venga definita attuabile servono moltissimi anni. Il mondo accademico è un mondo molto rigido. Non è che si scopre una cosa e immediatamente accade che la studi anche all'università. Potrebbe essere magari in un master, potrebbe essere comunque in corsi di aggiornamento, ma è molto molto lento il processo, non è così veloce. E per cui... Sì, mi verrebbe fare una battuta qui, ma solamente per alcune situazioni abbiamo un processo lento, veloce quest'anno. Io mi estengo. Ecco, quindi entriamo... Acqua in bocca. Ricontinuiamo in quella che è la nostra coscienza quantica e come... Comunque ci sono primari di ospedali anche molto importanti, come per esempio il San Raffaele di Milano, che conoscono questa strumentazione. Lavorano con strumentazioni similissime a quelle con cui lavoriamo noi da tantissimi anni e portano queste conoscenze anche all'interno dell'ospedale, ma non per il pubblico. È ancora in ricerca. Sono in ricerca. Sì, per esempio il dottor Spagiari è un personaggio molto molto conosciuto rispetto a... A questo tipo di tematiche. Sì, sì, ha le strumentazioni quantici. Quindi la vostra, attualmente, diciamo questo macchinario che voi avete, quindi è utilizzato anche in alcuni ospedali, cioè c'è in questo ospedale che appunto tu hai citato, quindi a Milano, e sai se viene utilizzato anche... No, viene utilizzato per... che io sappia in questo momento, poi non sono attualmente... Sì, 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 certo. Informatissima, sì. Esattamente. Era per la ricerca, quindi non è che io posso prenotarmi una visita all'ospedale per farmi un check-up quantistico. Ecco, in questo momento no. Ok, ok. Ascoltami, una... direi che è fondamentale come... che ci spiega un pochino, appunto, come avvengono le forme pensiero, che cosa sono l'importanza dei nostri pensieri, ed è vero che i pensieri creavano la nostra realtà? Ok, c'è da dire qualcosa di interessante. Il nostro pensiero è molto forte, tuttavia l'essere umano ha una grandissima capacità di realizzare il peggio, nel senso che il pensiero negativo, chiamiamolo così, in parole povere, batte il pensiero positivo 5 a 1. Ok, quindi vuol dire che ci vogliono 5 pensieri positivi. Facciamola più semplice, un uomo fa un'osservazione negativa ad una donna, ce ne vogliono 5 di positive. Per rimediare e aggiungerei virgola, forse. Esatto, forse. Sì, è così, cioè il pensiero negativo è molto più forte, ma non perché sia più, come dire, non è una questione di vince il male, è una questione che l'essere umano per caratteristica, io lo chiamo così, ha un semino malefico dentro. E se può pensa male, se può pensa che non vale poi tanto. E se qualcuno di valore gli dà valore, a volte pensa, allora vuol dire che questo non vale poi tanto se mi dà valore, a me che non valgo niente. Quindi c'è un po' questo pensiero distruttivo e boicottante. All'interno di noi. Sì, quindi le forme pensiero funzionano, a volte purtroppo anche contro di noi, perché noi siamo esseri emotivi, vibriamo come un diaframma del microfono in cui io sto parlando, noi vibriamo. E quindi se vibriamo in una condizione in cui bisognerebbe stare più fermi, è un problema, noi siamo esseri emotivi. In più non ci viene insegnato a gestirle le emozioni, siamo poco intelligenti da un punto di vista emotivo. E quindi è come se ci muovessimo in ambienti del tutto sconosciuti per noi. Però c'è stato per esempio un bellissimo esperimento, quello fatto nel 1994 a Washington, dove appunto c'è il discorso di 4.000 volontari di yoga. Sì, lo racconto appunto all'interno, in uno di questi capitoli, della forza del pensiero positivo. Viene fatto proprio questo esperimento particolare, viene fatto d'estate, e ora poi capirete anche perché dico d'estate. E questo gruppo di persone raccoglie 4.000 volontari yoga, quindi meditatori degli yogi, o yogi. E quindi cosa succede? Succede che vogliono dimostrare al governo che il governo comunque di Washington DC, in quel periodo era il sistema diciamo di quel territorio, era uno tra i più pericolosi al mondo in quel periodo a livello di crimini gravi, stupri, sequestri, cose... Criminalità forte organizzata anche, certo, comunque di violenze. E si spendevano migliaia e migliaia di dollari per poter aiutare questo fenomeno con varie strategie, ma con nessun risultato. Quindi questa organizzazione dice ok, noi vogliamo approvare, fanno questa dichiarazione, vogliamo approvare a inviare con questi 4.000 volontari pace e amore a Washington DC. E il capo della polizia che in tv viene intervistato e gli viene raccontata questa situazione, rispose che per riuscire, perché loro hanno promesso, di riuscire a diminuire in quel frangente i crimini gravi del 20%. E lui sbottò dicendo, e anche ridendo un po', per riuscire a calare i crimini gravi a Washington DC del 20% e per fermarli è necessario che fuori nevichi, neve bella alta. Esatto. Soltanto che tra l'altro era anche estate, quindi era proprio una presa in giro. E invece accadde che non soltanto la criminalità venne ridotta del 20%, come avevano promesso di fare, attraverso appunto l'irradiazione di amore e pace, ma anche il sistema generale del governo si armonizzò moltissimo in quel periodo. E quindi perché non possiamo ripetere questo tipo di esperienza? Di esperimento, sì. Di esperienza, di esperimento. Quindi la potenza del pensiero di più persone unite nello stesso intento è molto più forte della somma dei loro pensieri separati. Sì. Questo. Noi dobbiamo distinguere molto bene le forme pensiero dalle egregore. Esatto. Che cosa sono una e che cosa è l'altra. Sì. Allora, le forme pensiero è il contenuto del pensato, dell'essere umano, ed è, diciamo, più debole del contenuto del pensato di tutti quanti gli esseri umani che pensano allo stesso tipo di pensiero. Quindi vuol dire, se io penso a cose amorevoli, il mio pensiero è più debole che se io mi metto a pensare a cose amorevoli assieme a te. Ok. Se poi pensiamo a cose amorevoli in dieci, è molto più forte questo pensiero, perché è stato misurato, come abbiamo visto, sentito, di solo Monia che pensa a cose amorevoli. Quindi, quando la mia forma pensiero singola si unisce alla forma pensiero di tantissime persone, diventa un egregora dello stesso tipo. Per esempio, in questo caso, un egregora di amore. Esistono due tipi di contenuti diversi, un contenuto di amore che può essere provato e con tutte le sue varie sottospecie, la gentilezza, il buon pensiero. E l'altro è la paura, quindi amore e paura. Nel contenitore paura c'è la rabbia, l'aggressività, lo schernimento. Tutto arriva dal contenitore paura o paura e quindi attacco attraverso questi fenomeni. Quindi cosa succede? Intanto saluto tutti che ci stanno salutando dalla diretta. Quindi ricordiamo che c'è appunto in questo momento la diretta Facebook dal tuo profilo, Monia Zanon, è giusto, Monia Zanon? Sì, Monia Zanon, fra parentesi, Dharma. Dharma. E invece adesso ci troviamo in diretta a Radio Gamma 5, se volete, se avete problemi di linea, eccetera, sapete che su 94 FM ci potete sentire. Oppure in streaming dal sito della radio www.radiogamma5.it. Allora, visto che ti ho interrotto, continuiamo, ricordo che è possibile inviare direttamente gli sms con le domande per Monia Zanon al 334-710-2672. Le telefonate io direi dopo le 21, così almeno finiamo un po' questo bellissimo argomento. Bene, quindi in pratica trovarsi assieme, è fisicamente importante trovarsi assieme per definire un pensiero comune e creare un'egregora? Certamente, non a caso, le grandi guarigioni avvengono, soprattutto in percentuale più alta, quando ci sono molte persone, per esempio Međugorje, Lourdes. Sono tutte situazioni in cui ci sono state tante persone che avevano un atteggiamento di un certo tipo. E quindi è più facile che accadano guarigioni in uno stato come questo. Quindi il pensiero, la potenza del nostro pensiero è molto importante. Se io ho un'ecologia di pensiero rispetto al mio pensato e cerco di pensare non positivo, perché abbiamo visto che il pensiero positivo non è molto potente, ma funzionale. Ecco, se io penso funzionale è più facile che mi arrivino anche le esoluzioni. Infatti una recente scoperta dell'Università di Parma ha potuto scoprire i neuroni specchio. Quindi se io anche soltanto mi metto con gli angoli della bocca verso su e ho un acceno di sorriso in un giorno in cui magari picchierei l'immagine mia stessa nello specchio, anche se io mi metto con gli angoli della bocca in su, i neuroni del mio cervello di riflesso si mettono in quell'atteggiamento e comincio ad attrarre persone che hanno un atteggiamento come il mio. Quindi è molto interessante riuscire a ripulire il proprio pensato perché il nostro pensiero personale ha una responsabilità, perché può attirare un pensiero collettivo dello stesso tipo. Certo, quindi diventa importante stare sempre molto attenti a cosa pensiamo, desideriamo e auguriamo anche. Perché è necessaria una certa, come hai appunto detto tu, ecologia di pensiero. L'ecologia di pensiero quindi di pulizia, correttezza, congruenza, questo lo definisci molto bene nel libro, l'attenzione e l'importanza verso questo pensiero ecologico. La mia collega che doveva essere con me stasera ha avuto un imprevisto, è collegata adesso e ci dice che le dispiace molto non essere qui con noi, comunque insomma ce la stiamo cavando. Bene, ma è invitata per 14 giorni esatti, quindi fra due lunedì, benissimo, quindi salutiamo anche Luigina Bernardi, grazie davvero. Lo chiami anche tu effetto sciamano, quello che è molto bello. Cos'è questo effetto sciamano? L'effetto sciamano scientificamente non è altro che un effetto placebo, ma ogni effetto placebo, dal latino plasir, piacere, ha anche il suo contrario, l'effetto nocebo. Quindi per ogni cosa che mi fa bene c'è anche qualcosa che mi può fare male, perché altrimenti non è vero l'uno se non è vero anche l'altro, no? C'è la contropartita. Quindi se io ho una persona che per me ha un grande potere a livello di fiducia, cioè io ho una grande fiducia su questa persona, e per me quello che dice ha un valore, ha un peso. E se quella persona mi dice qualcosa, mi dà un suggerimento, un consiglio o una sentenza, per me ha un peso. Perché io credo in lei e credere in lei fa sì che questa cosa abbia un effetto. Tu dici mi nutre, scrivi nel libro, quella parola mi nutre, potentissimo, ha un effetto. Quindi l'effetto nocebo è importantissimo. Assolutamente sì. Sarebbe interessante anche raccontare come è stato scoperto l'effetto placebo. Sì, dai, dai, vai, vai Monia. Eh, perché magari se ne parla un po' di meno. Ci troviamo in una condizione clima, seconda guerra mondiale, quindi in America, e ormai questo ospedale da campo aveva finito la morfina, ne aveva pochissima, e la gente arrivava mezza sbudellata e quindi, eh sì, e quindi questo medico, Becker, si è trovato in una condizione in cui temeva che le persone andassero in shock perché non poteva dargli antidolorifici. Sì. L'infermiera, senza nemmeno dire niente, prende una siringa con una soluzione idrossalina e la inietta alla persona che urlava dai dolori, facendogli credere che fosse un antidolorifico. Potentissimo, una cosa incredibile. E la persona non solo non va in shock, ma sembra aver ricevuto morfina come le altre. Da qui insospettisce questo fatto, questa esperienza, il medico si insospettisce e cominciano a rifarlo, 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 e scoprono l'effetto piacere. Ti faccio un piacere. E questo piacere ha un effetto, tanto quanto la morfina in questo caso. E da qui scoprono l'effetto placebo. Successivamente questo medico, Baker, contribuisce a ben 15 pubblicazioni internazionali da cui si fondono, si basano, tutte le nostre ricerche sui controlli random e su cui noi produciamo i farmaci. Quindi sull'effetto placebo o sull'effetto nocebo. Perché se una cosa mi può fare bene, mi può fare anche male. Immaginiamo qualcuno di cui io mi fido ciecamente, perché ha un ruolo in società, e mi dice, hai due mesi di vita. Potentissimo. Mi auto, come dire, mi metto il timer per cui probabilmente diventerà... A un certo punto scado, vado in scadenza, duro, finquanto questa persona che per me ha un grande peso di credenza, ci credo, e quindi accadrà. Tra l'altro nel tema delle credenze mi viene in mente Bruce Lipton con tutta l'epigenetica. Certo, lui la chiama proprio l'effetto credenza, per lui è fondamentale. L'effetto credenza, l'epigenetica, mi scopre quello che sta di sopra della genetica. Quindi io posso, sicuramente se ho una storia familiare in cui la mia famiglia, tutti quanti hanno problemi alla tiroide, è molto facile che a me venga questo problema, ma anche no. Perché allora a me potrebbe venire, o anche no, potrebbe venire nel momento in cui, siccome è quello il mio punto in cui scarico lo stress, se io non curo il mio stress, è molto facile che quello diventerà il mio problema. Quindi non mi ammalo per quel problema, mi ammalo lì perché quello è il mio corpo, la mia macchina a quel punto debole, ma il vero problema è lo stress. Infatti nel libro dicevo scopri qual è il tuo stress e prendetene cura. Sì, infatti anche questo è un grande punto importante su cui appunto nel libro parli bene. Io rimarrei un secondino di nuovo sull'aspetto dei pensieri e io ti riporto per esempio all'incredibile scoperta di nuovo perché questo gioco di energia che è il pensiero e come agisce sulla materia, ritorno a, e poi sui nostri comportamenti, mi viene in mente Rupert Sheldrake con i campi morfici, che anche qui è una incredibile scoperta che tra l'altro Rupert come biologo fa osservando il mondo degli animali. E vedendo che appunto, osservando gli uccelli, vedendo questo incredibile danza nel cielo, erano perfetti, tutti sapevano andare all'unisono e sapevano, cambiano direzione in base anche a come questo stormo viaggiava, in base anche a come il primo volatile viaggiava. Quindi si chiede cosa succede in quel sistema, come mai sono tutti contemporaneamente che riescono a viaggiare, a danzare all'unisono e da lì appunto lui teorizza questa meravigliosa cosa che poi in realtà la possiamo tranquillamente trasportare anche sulla nostra vita. Anche noi siamo immersi, senza rendercene conto, in campi morfici. Assolutamente sì. Intanto cosa sono questi campi morfici? I campi morfici sono dei campi in odore, in sapore, inudibili. E non visibili. Invisibili, se non per i loro effetti, un po' come le onde elettromagnetiche. Noi non le sentiamo, non le vediamo, però possiamo vederne negli effetti. Un po' come il vento, non si vede, ma io vedo l'effetto del vento, no? Certo. Ok, la stessa cosa accade per i campi morfici. Quindi questo scienziato, questo appunto ricercatore, Rupert Sheldrake, lui cerca di dare una risposta a questi fenomeni stranissimi che accadevano nel mondo animale. E per animale la sparo larga, cioè anche l'essere umano. Certo. Queste madri che avevano un sussulto prima che al loro figlio accadesse qualcosa. E poi ricordami che tra questo, fra parentesi, vi racconto un adeduto che mi è appena successo. Quindi ti chiedo un nodo a frazzoletto che se no mi perdo. Grazie. Quindi queste madri che in qualche modo, prima che i loro figli succedesse qualcosa, avevano un sussulto. Questi gemelli che separati potevano sentire come stava l'altro gemello. Queste situazioni per cui il cane sente l'arrivo del suo familiare anche due ore prima che questo rincasi, quindi non può essere il suono del motore della macchina come si era creduto all'inizio. Certo. O dei passi che arrivano nel vano scala come si era creduto inizialmente. Perché se il cane, osservando nella sperimentazione, si mette sul chivalà molto prima, addirittura due ore prima, e fanno un esperimento molto interessante. Praticamente monitorano il cane a casa. Naturalmente non si può fare con un cane che non guardi mai se non per mettergli l'acqua e il cibo e lo molli lì e non hai una relazione. Succede soltanto tra gli esseri umani che hanno una relazione profonda e tra esseri umani e i loro animali quando hanno una relazione profonda. Quindi in caso di relazione profonda di questo familiare che aveva questo cane, gli scienziati studiano il comportamento del cane e chiedono a questo padrone del cane di farsi un giretto. Questo qui si fa un giretto e a un certo punto gli scienziati gli dicono bene adesso tu torna a casa. E questo tizio si prepara per tornare a casa e vedono che il cane due ore prima si comporta come per dare il benvenuto al suo familiare che stava per rincasare. Quindi questo come per quanto riguarda il volo degli uccelli che non si scontrano mai, volano sembra quasi accordati tutti con la stessa danza. Addirittura quando il primo uccello che apre il volo e che è un po' il capo dello stormo e quando è stanco non deve dire agli altri scusate sono stanco mi vado a riposare in coda. Noi lui si sposta in coda e contemporaneamente come una danza gli altri vengono avanti. O i pesci che per non farsi prendere quando noi andiamo a farci il bagnetto in mare vediamo il branco di pesci e vorremmo tanto avvicinarci e loro fanno come un'esplosione tipo fuoco d'artificio ognuno in una direzione diversa. Se noi dovessimo fare una cosa così saremmo degli imbranati perché ci scontreremmo di sicuro. Invece loro sembrano perfettamente sapere che uno non andrà lì e non andrà là. E quindi è impressionante. Che cos'è? Qual è quella forza che è in grado di farci fare questo? Di far fare questo ai nostri animali? Di far ricordare l'elefante dopo anni dove si trovano le pozze d'acqua? Cos'è? E scelte Drake scopre che si tratta e li chiama appunto campi morfici o anche campi morfogenetici che si trovano nell'ambiente e che tengono grazie alla nostra coscienza e la coscienza degli animali sempre aggiornato il campo. Il campo è sempre aggiornato e aggiorna i partecipanti della stessa specie. Esatto. E in questo senso lo si può quindi anche traslare chiaramente all'essere umano come animale e anche ancora più in piccolino ad ogni noi ad ogni essere umano ad ogni individuo che sta nel proprio campo familiare e sente come una radio trasmittente avverte quei segnali che sono le frequenze dei pensieri. Quindi i pensieri che spesso magari non ci appartengono ma che provengono dall'esterno da questo campo ai quali ci possiamo collegare. Infatti chi è in un percorso diciamo personale spesso si accorge che lavorando su di sé senza fare niente anche i propri familiari cambiano. Anche se i propri familiari non hanno fatto alcun percorso personale iniziano a cambiare. Certamente per alcuni non è un cambiamento dall'oggi al domani ma accade, succede. Sì, spesso sì, questa cosa viene molto sentita. Se hai una relazione Laura perché se lasci, se non ti importa, se non nutri questa relazione nessuna relazione può durare se non la nutri. Chiaro, 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 sì sì sì. Il riferimento però appunto all'aggancio sono anche quelle forme pensiero che all'interno della famiglia dei nostri avi portano per esempio in serbo delle malattie, portano in serbo dei modi di comportamento tali per cui ecco quell'epigenetica che va a incidere per esempio sul nostro DNA. Portandoci nel tempo ecco questa per esempio ereditarietà che sviluppa anche Bruce Lipton e dice attenzione non sono forse tanto i geni che vi danno un certo tipo di percentuale di malattia quindi di DNA quanto piuttosto l'attivazione attraverso dei comportamenti che possono essere di credenza limitanti. Certo, tieni conto che molte volte il suono che queste cellule sentono è di lealtà familiare quindi ho questa lealtà familiare e per non spiacere al mio genitore mi comporto in un modo in cui l'altro accetta di più. Quindi per non spiacere potrei mettermi in situazioni veramente sabotanti. Quello che Dubbo dice anche nel libro che rende molto l'idea del periodo storico in cui noi siamo è proprio questa che potrebbe essere una visione per i nostri ascoltatori è che ciascuno, ciò che ognuno è soggiorno, è come se ognuno di noi fosse in una sorta di web, di rete e quindi tutti possono connettersi volendo a questa grande rete. Siamo delle grandi anche radio appunto trasmittenti ma anche riceviamo tantissimo. Quindi affinare un certo grado di sensibilità ti dà la possibilità di connetterti a questa grande rete. Soprattutto a piacimento perché alcune cose ci accadono ma non siamo consapevoli di essere accesi. Per cui in una situazione in cui sono accesa e dico delle cose che non vanno bene per la mia prosperità sono sentita. È come se io fossi, ci fosse internet, io fossi a questo microfono allacciata di internet e non so, dessi la password del mio conto in banca. Chiaramente è sabotante. Certo. Quindi se io so che sono ascoltata posso utilizzare delle cose, delle parole, delle affermazioni per il mio bene, per il bene delle persone intorno a me anziché per danneggiare. Certo. E quindi è molto importante sapere se si è accesi oppure no, se si è sveglio oppure no. Perché in rete ci siamo sempre ma possiamo utilizzare la rete a nostro favore e non essere, non a nostro svantaggio solamente se siamo presenti. Chiaro, chiaro. Questo tipo di informazioni, tu li parli anche come installi genitoriali che noi possiamo avere, quindi sono queste credenze, queste cose che ci vengono dal passato oppure addirittura appunto come metto dai nostri avi. Sono questi disinstalli che possono essere attuati per esempio anche con questa incredibile macchina quantistica? Allora, noi alla strumentazione quantistica che è in grado di darti milioni di dati, tanto che noi siamo in due a leggerli e ancora ancora certe volte veramente siamo travolte. La difficoltà più grande non è comprarsi questa strumentazione che magari con qualche mutuo ce la fai, è usarla, saperla usare, saperla leggere. Quindi la competenza nella lettura dei dati che fornisce. Sono i dati che lei sputa fuori ogni secondo. Quindi noi guardiamo le urgenze e lavoriamo sulle urgenze volta per volta. È ovvio che all'inizio fai il pronto soccorso e la strumentazione va a vedere per mantenerti in vita. Dopodiché quindi va a vedere cosa ti sta intossicando, va a riportare, va a sintonizzare diciamo la parte energetica dei tuoi organi affinché abbiano il top di quello che puoi avere adesso. Poi siccome lei ha la cibernetica, cosa vuol dire? Impara da se stessa. Ah, ok. Vuol dire che se io ti vedo la prima volta posso parlare con te di certe cose, ma se io ti vedo tre volte so che a te interessano determinate cose, quindi posso parlare con te molto di più della prima volta, questo sistema viene chiamato appunto cibernetica. Quindi lei più ti conosce è più in grado di aiutarti. Meraviglioso. Perché impara da se stessa. Sì. Quindi cosa succede? Che in base a quello che serve lei va a sistemare e grazie appunto all'abbinamento con il cancelling, quindi che è la parte di cui mi occupo. Io la mia collega è quella che fa fisicamente funzionare l'apparecchiatura e che comunque si occupa di tutti i parametri fisici, mentre io mi occupo di quelli emotivi. Quindi lei, la strumentazione mi dà tutta una serie di parametri che io in questi venti anni ho imparato a decriptare in base alle mie competenze e vado a fare la lettura al cliente rispetto a quello che gli serve a livello emotivo. E in questa lettura è compreso anche capire quando si è formato quella musica distorta che ha creato il problema. Quindi la prima azione, diciamo il primo pensiero, la prima situazione? Che le tue cellule ricordano adesso, perché noi potremmo avere avuto tantissimi dichiami o una prima ancora di quella, ma in quel momento noi ricordiamo specificatamente una in particolare a livello di memoria. Ed è quella che ci sta magari ancorando la problematica. Faccio un esempio. Ci è capitato il caso, ecco qua sarebbe stato meglio che ci fosse stata la mia collega che te lo spiegava ancora meglio di me, comunque va bene. Ci è capitato questo caso di questa, di questo signore che era intollerante al riso. E lui lo sapeva, lui lo sapeva. Lui lo sapeva, era venuto proprio per questi problemi di intolleranze grossi, importanti e specificatamente al riso. Attraverso la strumentazione si è capito che questo signore aveva avuto una brutta esperienza durante il suo anniversario, in cui l'anniversario di matrimonio che avevano avuto, o era il compleanno della moglie, insomma un evento particolare. Quindi lui cosa fa? Regala nella cena davanti a tutti, nella cena comune con i parenti davanti a tutti, dei fiori alla moglie e la moglie lo prende in giro e dice ma ti sembra un regalo da fare? E quindi una cosa umiliante, che è stata uno shock per lui a livello emotivo. Lui si è sentito umiliato. Sì. In quel momento a tavola stavano osservando il risotto. E quindi il suo sistema non è andato dalla moglie, quindi non è stato un rifiuto della moglie, ma è stata una sorta di compensazione sul riso. E quindi succedeva che ogni volta che lui mangiava il risotto le cellule dicevano no, veleno, veleno e gli davano questi effetti. Ovviamente vatte la pesca a scoprire che il problema è questo con altri sistemi. Molto difficile. E quindi noi abbiamo avuto la possibilità di avere la memoria del riso su un fatto specifico e parlando, quindi sviluppando con il cliente un colloquio di cancelling, lui ha potuto fare tan al suo inconscio, ricordare quel momento e liberarlo. Ok. La parte fisica invece la fa a livello diciamo di frequenza e la fa la strumentazione. Compito dell'essere umano, perché altrimenti basterebbero le macchine, è quello di aiutare il cliente, accoglierlo e accompagnarlo in questo viaggio nel capire che il motivo era quello. Ma noi abbiamo, nel libro ci sono casi anche veramente molto molto particolari, una persona che addirittura ha recuperato l'udito, non detto da me per carità, è una persona che un giorno viene, questo è successo di recente, è successo qualche mese fa, abbiamo fatto in tempo di inserirlo nel libro, anzi spero che mi stia sentendo magari, non so se per la privacy. Non diciamo. Ecco, quindi cosa succede? Succede che lui di solito veniva a fare questo tipo di intervento di riequilibrio e con l'apparecchio acustico, perché era sordo. In entrambi gli occhi? In entrambi le orecchie. In entrambi le orecchie. In entrambi le orecchie. Questo qui è un evento veramente incredibile, nel senso che noi non possiamo promettere niente a nessuno. Casomai il cliente che ci viene a dire mi sento meglio, mi trovo meglio, vedo che ho risolto. Chiaro. Chiaro. Lo ripeto, lo straripeto, non è bacchetta magica, non è un miracolo, ognuno reagisce in maniera molto diversa. Qualche mese fa questo cliente è venuto senza l'apparecchio acustico, ma noi non ci siamo accorti subito. Lui si è seduto come sempre, noi abbiamo iniziato quello che è il nostro check-up. A un certo punto lui dice, non votate niente di diverso. Caspita, l'apparecchio acustico non c'era più. Allora lui ne ha parlato con il suo medico in cura, con il suo Torino, con quelle figure competenti per quello che è stato il suo problema e gli hanno detto, guarda, potrebbe anche ritornarti da un momento all'altro il problema. Certo, per loro è così. Ma va bene, ma certo, perché noi abbiamo, facciamo esperienza di alcune cose e possiamo capire solo quello di cui facciamo esperienza. Per quello di cui non facciamo esperienza, questo è un fatto impossibile, lo ripeto, questo è un fatto scientificamente impossibile. Quindi come potrebbe essere considerato un miracolo, quello che una volta si dice ai miracoli? È un fatto impossibile, che però a qualcuno accade e quindi per qualcuno è stato possibile. Quindi chiaramente la gioia per noi è infinita, tanto che la strumentazione la battezzammo ancora ai tempi di mia figlia per l'effetto ottenuto, per la sua origione fra virgolette, la chiamammo gioia. Perché per noi era una gioia quello che stava succedendo. Berta, perché è legata alla leggenda di Berta che filava. Perché? Perché tutto parte da Montegrotto Terme, il centro ricerche è a Montegrotto Terme e tutto parte da lì e lì c'è la leggenda di Berta che fila. La conosci? La conosco perché ho letto il libro. Ma guarda un po'. Sì, la conosco perché ho letto il libro. Allora io direi che intanto creiamo un po' di saspe per sapere questa leggenda di Berta che fila. Io ricordo che stiamo parlando con la scrittrice Monia Zanon che ha scritto appunto il libro Coscienza Quantica e Punto Zero. In collaborazione con Luigina Bernardi. Esatto. E dove appunto come sottotitolo c'è guarire con le frequenze e lo sdoppiamento del tempo. Sdoppiamento del tempo ne dobbiamo ancora parlare, vediamo se riusciamo a parlare questo oggi. Ma ricordo che comunque questa puntata è registrata sul canale Telegram Tiferet di Laura Ferro. Ci sentiamo fra pochissimo. Tiferet Radio Gamma 5 10 gennaio 2022. Sono le 21 e 02 minuti primi. Siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5 in Via Antoniana 66 a Campo d'Arsico. Sono in compagnia della cara scrittrice ritornata Monia Zanon. Il libro di cui stiamo parlando è Coscienza Quantica e Punto Zero. Il guarire con le frequenze e lo sdoppiamento del tempo. Ci sta raccontando quello che sta portando avanti ormai da vent'anni, quello che è stato per l'esperienza di sua figlia e l'esperienza di persone che hanno provato questa incredibile macchina, questo marchigine che abbiamo definito appunto che si chiama Gioia Berta e che appunto è una prova su quello che può succedere. Si è partiti pensando appunto a quella che è la formazione dei pensieri, al fatto di, l'abbiamo compreso un po' quelle che sono le forme, le gregore e anche quello che è stato lo studio poi anche di Rupert Scheld e dei campi morfici. E diciamo da qui si parte, da qui si parte per il quanto ho capito nella lettura del libro dal appunto il disinstallare queste forme pensiero, forme credenze che hanno in qualche modo aiutare le persone a disinstallare. È una modalità di armonizzarle, quindi non è che le disinstalli, le armonizzi. Ok, le armonizzi, perfetto. È un armonizzarle e poi si crea qualcosa. Si crea qualcosa, qualcosa che può accadere, chiaramente noi lo facciamo nella maniera migliore possibile e poi ognuno sente quello che sente. Quindi è il cliente che ci dice come sta. Chiaro. Infatti tra le prime domande che facciamo quando qualcuno si siede sulla nostra poltroncina è come stai? Chiaro, come si sente. Sì, come stai, come stai? Che non è soltanto come stai oggi. Ed è interessante perché intanto è una domanda che non si fa spesso aspettandoci una risposta. Nel senso che molto spesso è per riempire i vuoti. Ma ciao, come stai? Non è una domanda fatta perché qualcuno risponda. Capito. Si fa per riempire un vuoto quasi come perché si fa così. E quindi è già tanto incominciare dicendo come stai. E a questo punto abbiamo detto che per la gioia, tu come mamma, visto che appunto tua figlia hai potuto sperimentare di persona questa cosa. Poi quello che è stato è stato, ma intanto hai potuto… Per me chiaramente ha cambiato la vita. A chiaramente non avere più una bambina che sanguina perché chiaramente questi problemi le davano anche eruzioni cutanee. Vorrei anche ricordare che io sono stata tre anni in tribunale e ho anche vinto questa causa perché chiaramente mia figlia aveva dei problemi molto importanti e non era proprio possibile intervenire con neanche un vaccino perché chiaramente era in una condizione molto 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 preoccupante. E quindi è una causa che ho vinto. E per cui mia figlia è stata libera di creare il suo sistema immunitario da sola. Quindi è stata lasciata in una condizione di autoequilibrio. E anche questo è stato molto importante. Quindi quello che ci sia stata da parte della collettività ma anche delle istituzioni un'attenzione nei confronti di questa piccola bambina che aveva gravi problemi. Io mi svegliavo di notte con l'odore del sangue. Mamma mia. E sai, prima di decidere io ho voluto che la vedessero. Cioè io ho voluto portargli perché sai un conto è parlare a caso. È un conto vedere. Io ho voluto portargli la bambina e ho voluto che il giudice vedesse come era, in che condizioni era mia figlia quando aveva questa malattia. Prima di fare qualsiasi scelta, di prendere qualsiasi decisione. Perché è più facile fare le cose se non gli dai una forma. Però chi sta male sa cosa significa essere ascoltato. Certo, certo. Sì, sì, sì. Quindi è stata anche una, insomma, anche abbastanza una situazione travagliata. Perché tu all'inizio ce l'hai raccontata e sembrava molto più semplice. Forse non ho percepito neanche dal libro tutta questa. Ecco, adesso l'hai toccata maggiormente questa cosa. Per cui il nome è sicuramente Gioia, perché aveva portato la gioia nel tuo cuore. Sì, è Berta. È Berta, è Berta che è appunto questa cosa. Abbiamo capito appunto che è nel, questa gioia Berta è a Montegrotto Terme e c'è questa leggenda appunto di Berta. La leggenda che Berta filava è una leggenda che per chi abita nel territorio è molto conosciuta. e quindi c'era questa leggenda che dice che appunto la regina, la regina, la regina Elisabetta viene a curarsi a Montegrotto. Sì. Perché c'erano, ci sono le terme. Sì. E quindi succede che in quel paese vi era a quei tempi tale, beh, Berta, chiamata così, anche la regina Elisabetta la chiamavano Berta. Quindi questa Berta, questa ragazza, aveva il suo, quello che sarebbe stato poi il suo marito che era stato, che era stato messo diciamo in prigione perché aveva delle problematiche, insomma, e lei voleva che si facesse un po' pressione attraverso la regina perché fosse liberato. Quindi lei va a trovare la regina e dice tu che ti chiami come me, aiutami a liberare il mio futuro sposo, fai qualcosa, puoi fare qualcosa per me, per aiutarmi. E la regina Elisabetta dice guarda io qua non ho giurisdizione, cioè non è che posso fare questa cosa, però ti posso dare, visto che questa Berta era molto povera, quello che aveva era soltanto una matassa di filo e ha portato quello che aveva in dono, ha detto io non posso fare niente per aiutarti, però ti posso dare tanta terra quanta può circondare la matassa del filo che tu mi regali. Quando si seppe in paese di questa cosa qua, tante tante donne andarono dalla regina Elisabetta a chiedere anche loro qualcosa con i matassoni, ma tutte, la regina Elisabetta dice non è più il tempo in cui Berta filava e quindi abbiamo voluto appunto mettere questo nome alla strumentazione perché per noi era un modo per essere pionieri di qualcosa. Certo, 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 quindi ha questo appunto, questo nome. Beh, innanzitutto qui ci sono messaggi del tipo Zizza scrive ma tu sei Monia? Sì, sì, è proprio lei Monia, dopo non sappiamo Zizza se è Monia Zanon quella che tu intendi, però lei è proprio Monia e poi mi scrive buona serata Laura, puoi chiedere alla tua ospite usano frequenze di suoni per curare per curare cardiaco? Lucia. Allora intanto noi facciamo armonizzazione più frequenza, quindi non è che curiamo, noi riarmonizziamo. Ok, ecco, questa è una cosa importante, non parliamo di cure, assolutamente. Riarmonizzazione, io mi occupo come cancellor della parte di armonizzazione di emozioni, mentre la mia collega si occupa della parte, quindi che riguarda il biofeedback, della reattanza, vediamo in una maniera più semplice, della risposta energetica di ogni organo. Quindi lei si occupa di riarmonizzare quella, noi facciamo delle riarmonizzazioni attraverso questa strumentazione. Come effetto collaterale qualcuno si è trovato a stare veramente bene, ma noi non lo facciamo per guarire, noi lo facciamo per far stare bene la gente. Vediamo che la gente sta bene, che funziona, che sono vent'anni che la gente sta bene e che si trova bene e la nostra risposta ce la dà la gente. Quindi è il nostro cliente che dice che sta bene, non noi. Benissimo, allora vediamo se appunto Lucia, appunto, per curare, no, assolutamente, è per armonizzare Lucia, questo è fondamentale. E poi qui c'è un saluto a Monia ed un grazie per condividere le sue preziose conoscenze, Francesca Boccato. Grazie Francesca, ciao, ti saluto. Ciao Francesca. Ecco, poi va bene, poi vabbè uno, allora, hanno, vabbè qui il poeta pazza ha fatto una battuta su prima, ma parliamo. Bene, torniamo in quello che è l'importanza a questo punto dell'armonizzare i nostri pensieri, nel ritornare a armonizzare i nostri pensieri, perché sono quei pensieri, e abbiamo visto che possono essere delle credenze, come dice, limitanti, e tali credenze limitanti portano poi anche a credere, appunto, proprio perché ci limitano, ad anche vedere, come dire, la nostra vita in modo molto più stretto, a vederci in un modo diverso, quello che hai iniziato parlando proprio prima, a quanto noi non crediamo molte volte a ciò che ci viene detto, perché dentro di noi è installato probabilmente lì da chissà quanto tempo, una credenza limitante su chi noi siamo e su quello che noi facciamo. Sai, questa cosa la spiego con una situazione che mi è successa quando ero una ragazzina. Sì. Quindi ero piccola, più che adolescente, avrò avuto 17 anni, 18 anni, più o meno, forse qualcosa di più. Sì. Vado in viaggio, vado in volo e sono nella sala d'aspetto del gate e succede che si siede vicino a me Fornacciari, Zucchero Fornacciari, che a quei tempi era un cantante veramente, veramente famoso, cioè famoso anche adesso, ma a quei tempi era tanto, tanto famoso. Era nel boom della sua carriera. Sì, sono nata negli anni 70, per cui quando avevo 18-20 anni, sì, quello era il periodo più grosso, in cui era più famoso. E si mette a parlare anche con me. E quindi io ho fatto dentro di me questo tipo di, me lo ricordo molto bene, ho fatto questo tipo di equivalenza. e questa equivalenza è stata, non è stata, oh wow, che bello, si mette a parlare con me un personaggio così importante, per quello che era per me, importante per me, ma la mia equivalenza è stata, beh, se questo personaggio si mette a parlare con me, vuol dire che non valgo granché, vuol dire che allora, vuol dire che neanche lui vale granché. Quindi la possibilità di pensare che non vogliamo tanto, cova nelle nostre menti, ed è quella che non ci fa mai arrivare a 10, ci fa arrivare magari a 9 e non a 10, per qualcuno nemmeno 9. Quindi immaginiamo riuscire a trovare, anche facendo una chiacchierata con il nostro cliente, il punto, la chiave di volta, di quello che non lo fa funzionare. È un modo per sbloccarlo, da quelli che sono i suoi pensieri. Sì, noi reagiamo alla paura, nessuno nasce cattivo, tutti noi reagiamo quando abbiamo paura, e allora ci viene la rabbia, e allora saliamo al prossimo, perché siamo in una condizione di paura. Allora, se fossimo in una condizione di amore, veramente non ce ne fregherebbe niente attaccare al prossimo. Per esempio, quando mi hanno fatto l'anestesia totale per un'operazione che ho avuto, prima dell'anestesia c'è una preparazione, quindi c'è una sedazione. Sì. E sei in uno stato, tra l'altro anche in altri interventi in cui mi hanno fatto solo con sedazione e non con la totale, ho avuto la stessa identica esperienza, vediamo, non so se tu hai mai avuto delle operazioni con sedazione. Sì, purtroppo sì. In quel momento, quando ti sedano, ti fanno questa sedazione, sei in un momento di beatitudine a livello di aggressività, quindi magari hai male, però sei in una situazione di aggressività pari a zero, sei in una condizione in cui ti senti inerme, amorevole, sei grato di chi ti sta assistendo, sei grato di chi si sta prendendo cura di te, ti affidi, non ti verrebbe mai mente di tirargli un pugno, non ti verrebbe mai mente di dirgli su o di insultarlo, no? perché sei in una condizione di amore e quella sedazione ti porta in una condizione in cui non hai motivo nemmeno per dire bugie. se uno ti chiede una cosa, tu non hai motivo per mentire, e quindi dice la verità, perché sei in un contenitore amore, non sei in un contenitore paura, anche se hai male. E quindi questo è interessante, noi aggrediamo il prossimo perché abbiamo paura di quello che non conosciamo, perché non abbiamo mai fatto esperienza, non abbiamo mai fatto esperienza prima, e allora aggrediamo. Quindi tu dici, è l'esperienza che manca, ed è per quello che abbiamo paura, e ci fermiamo. Non è il concetto che siccome ho fatto un'esperienza negativa, allora poi lì ho una serie infinita di paure, no? Tu dici, è la paura che ci blocca prima di fare esperienza. È comunque paura, anche se ho avuto una cattiva esperienza di qualcosa, è comunque paura. magari non ho fatto esperienza di quella cosa in un modo costruttivo, ho fatto esperienza di quella cosa in un modo distruttivo, e allora ho paura. Non ho fatto un'esperienza positiva di quella situazione, e allora vado in attacco. Certo. Quindi l'importante sarebbe agire, quindi non reagire, ma agire affinché quella paura che noi abbiamo, che ci tiene lontano, quindi creiamo molte volte un muro, ci arrabbiamo, andare in apertura totale e cercare di avere quell'esperienza che ci viene chiesta. È per questo che abbiamo scritto questo libro, che io ho scritto questo libro con la collaborazione della mia collega. Diciamo, io sono stata anche la mano e anche la mente, però insomma tanti aneddoti sono insieme, il percorso è stato insieme, l'avventura è insieme, io ho desiderato che lei ci fosse e lei anche. Quindi abbiamo voluto raccontare la nostra esperienza in questo viaggio per quelli che sono state le persone che abbiamo conosciuto, per quello che è stato, i loro racconti, perché noi portiamo i loro racconti di persone vere che si sono firmate, che esistono e che hanno voluto spontaneamente raccontare che cosa è successo loro, abbiamo portato i nostri racconti di quello che ci capitava, di quello che ci succedeva, perché questa è stata la nostra esperienza. È ovvio che magari qualcun altro può avere un'esperienza diversa, anche con lo stesso strumento. Chiaro. Magari a qualcuno la strumentazione non ha fatto nulla, la cosa veramente interessante è che essendo un'armonizzazione non fa peggio, non fa peggio di quello che già c'è. Ok, abbiamo una telefonata, vediamo se riusciamo, 70838, pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Stefano. Stefano. Stefano da Padova. Buonasera Stefano. Siamo già sentiti in un paio di occasioni. Sì, probabilmente sì, adesso ricordo, sì. Sì. Allora io vi voglio bene. Grazie. Siete così belle, io vorrei fare l'amore con voi, però non fai tenere, l'amore è quello santo, eh? Sì, capisco, quello universale, di condivisione. Io parlo spirituale, sì. Io parlo spirituale, ok? Sì. Anzi, se mi permetti, non vorrei uscire da te, ma quantistico, perché io di quantistica non so neanche cosa vuol dire. Se sei così gentile, perché io ho fatto solo la terza media, se sei così gentile, e spiegarmi che cavolo è la quantistica, ok? Sì. Benissimo Stefano. Eh, eh no, scusa, perché c'è una platea che vi sta ascoltando e non so quanti possono cogliere... Sì, sì, infatti hai fatto benissimo a puntualizzare. Sì, ti voglio bene, ti ho detto che voglio fare l'amore con te. E infatti io ti dico che hai fatto bene a puntualizzarlo, perché adesso Monia ci spiegherà. Sì, che cavolo è, queste storie quantistiche, psico-neuro-quantistico, spiegami cosa vuol dire psico-neuro-quantistico, eh. Abbiamo detto psico-neuro-quantistico. E dopo io glielo scrivo a mia mamma che c'è 80 anni, d'accordo? Va bene, grazie Stefano. Buona serata. Sì? È un'altra domanda? Mi chiudi già? Eh, pensa... Abbiamo praticamente tre minuti, vediamo se Monia riesce a rispondere. Ma questo si chiama mobbing, tesoro mio. Per carità. Questo si chiama mobbing, io lo metto giù perché sono indignato. Va bene Stefano, intanto rispondiamo alla prima domanda. Non problemi vostri. Va bene, buona serata. Era veramente... Questo era impaurito allora, cos'è? Era impaurito. Allora, posso dare un concetto molto facile, molto semplice, per quella che può essere definito quantistico. Che cos'è quantistico? Allora, intanto si parte da una regola base che nel grande ci sta il piccolo. Quindi in ogni grande materia vi è anche il micromondo. Quindi il collegamento tra il piccolo e il grande è quello che studia la quantistica. Quello che collega il piccolo con il grande è quello che studia la quantistica. Il collegamento tra questi è quello che studia la quantistica. Poi da qui, insomma, quello che è la base è questa. Poi da qui è veramente un mondo senza andare in cerca di cose stratosferiche. Ok. Allora, vediamo. Di solito faccio un esempio molto terra terra. Sì, sì, sì. Abbiamo presente quelle figurine che si trovano nelle patatine spesso, che quando le giri, hanno le immagini, non so, di Hello Kitty, e quando giri vedi Hello Kitty che apre e chiude gli occhi o ha il fiocchetto oppure no. Sì, sì. Ecco, la quantistica spiega l'interazione tra la piccola parte e la grande parte, il disegno totale e il piccolo frammento, che contiene anch'esso tutto il disegno finale. Ok, ok. Detto in tre secondi perché abbiamo detto un po' di tutto. Sì, infatti, anche perché, insomma, volevo poi cercare di conoscere, comunque riconosco la voce giovanile squillante di Monia che ricorda dei tempi di Franco Carraro e parlava di Ighina. Dove si trova questa macchina? A Montegrotto Terme. Gioia Berta si trova appunto a Montegrotto Terme. Abbiamo detto... Comunque se qualcuno vuole approfondire la tematica di cui abbiamo parlato oggi, e il libro... ho scritto questo libro con la mia collega Luigina e se qualcuno vuole approfondire lo può leggere. Infatti, beh, ricordo che il titolo è Coscienza Quantica e punto zero, appunto, di Monia Zanon. E poi vediamo qui... abbiamo anche... va bene, Simone? Ok, allora ho letto... mi ha scritto Simone. E prendo... ok, ok, perfetto, passo poi a Monia. C'è una cosa poi per te. Allora, abbiamo appunto forse due minuti. Io direi che possiamo concludere, beh, dicendo che sicuramente andiamo a rifare un pochino quello che è il punto della situazione di una serie di informazioni che sono ancora molto interessanti per quanto riguarda il concetto dei pensieri, delle credenze, dei campi morfici, e lo riprendiamo praticamente fra 15 giorni, ecco, fra due lunedì, in questo senso. Per cui, ecco, anche Stefano che dice che deve spiegarlo la mamma di 80 anni, lo rivediamo, lo rivediamo, Stefano. Per cui, ecco, questo sarà... poi magari vedremo anche di far l'intervista direttamente anche con Luigina e che appunto allora faremo questa intervista anche con chi materialmente da ormai da 20 anni sta utilizzando questa macchina per poter, insomma, rivedere. Io chiuderei con una frase molto potente che ha detto Gesù e dice La tua fede ti salverà. Quindi, cosa significa questa frase? E la possiamo riprendere la prossima volta in parole povere. Volentieri. Da qui, quindi la tua fede ti salverà e a questo punto, sì, chiudo con questa potente frase ricordando che come anche la fisica, gli esperimenti di fisica sulle particelle ha detto appunto che l'osservatore crea osservando il collasso della funzione d'onda e questo è un grande concetto che andremo a rivedere appunto fra due lunedì. Io vi saluto, ricordo che questa parte della prima puntata di Tifreti questa sera verrà con tempo debito, verrà inserita comunque nel canale Telegram di Laura Ferro dove è possibile riascoltare tutte le trasmissioni. Io ti ringrazio intanto per questa serata, grazie davvero per questa condivisione, per questa chiacchierata. Grazie a tutti per l'ascolto, chi ha mandato e inviato i messaggi. Noi ci sentiamo quindi fra due lunedì con la possibilità appunto di stare ancora assieme e ricordo, beh no, non dico altro, ci sarà anche un altro ospite appunto oltre a Monia Zanon e a Luigina per la parte iniziale della puntata. Io adesso appunto vi saluto con questa canzone, vediamo se riesco a inserire il CD. Un grande abbraccio a tutti, grazie davvero a coloro che sono intervenuti e coloro che hanno ascoltato in silenzio. Buona continuazione di serata, un abbraccio da Laura Ferro.